Un caro saluto a tutti da Stefano Terraglia. Questo episodio è semplicemente un'opinione, niente di più. A seguito dell'attentato che si è verificato a Nizza, che ha visto oltre 84 morti a centinaia di feriti, tra cui molti bambini. Un attentato che io condanno in pieno. Però vorrei fare una riflessione, come ho appena detto, una riflessione che va un po' oltre ai fatti e che scaturisce da un'attenta analisi di ciò che è successo, sia ultimamente che in tutti questi anni. Molti di quest'analisi l'hanno già espressa, anche se a volte si ha un atteggiamento di indifferenza verso certe analisi, verso certe opinioni. Io stasera la ribadisco anche perché è la mia opinione. Ripeto, pur condannando ciò che è successo, ma bisogna chiederci il perché è successo. Perché avviene questo? Perché sta avvenendo questo? Perché questa organizzazione terroristica fa tutti questi danni in Europa? Noi chiaramente, anche se pare un paradosso riflettere su questo, però noi eleggiamo i nostri rappresentanti politici. Permettiamo a queste persone, una volta elette tramite i partiti, di occupare delle responsabilità istituzionali, che poi sono quelle responsabilità che vanno a interessare anche la politica estera. All'interno di questo panorama di politici e politicanti, vi sono delle forze che noi conosciamo il giusto, che attraverso questi politicanti creano le reali condizioni per dare le direttive a tutti i paesi europei di carattere politico. Queste forze pseudo occulte, perché poi alla fine si può immaginare di che forze si trattano, le banche, le massonerie, le lobby di potere, le multinazionali e tutto, che poi sono coloro che hanno il capitale, che questo capitale serve in un certo senso per permettergli un po' di fare quello che vogliano nel mondo. Quindi addirittura influenzando coloro che in realtà sono le persone che noi eleggiamo con il nostro voto politico, che però sono quelle che ci vengono proposte, perché in realtà per fare una campagna elettorale occorrano dei soldi, per cui chi ha più soldi riesce ad essere più visibile, a conquistare anche in un certo senso il consenso del popolo. Una volta che hanno raggiunto questi posti di potere, queste persone in realtà, più che l'interesse di chi le ha eletti, fanno l'interesse di tutta una serie di forze che servono per poi mantenergli quella carica, quel potere, per fare in modo che queste persone vengano riconfermate alle espressioni di voto successive, alle legislature successive. Ecco, tutto questo praticamente serve per mantenere determinate condizioni in Occidente, quindi un certo tipo di stato sociale, che io chiamo stato sociale perché comunque sia non è riferito a una corrente di pensiero, ma stato sociale nel senso la società occidentale che viene, diciamo, che ha delle abitudini, che ha del modo di vivere, che vive del consumo, che vive di tutto ciò che è, come dire, anche del superfluo, spesso e buoni di tieni, no? Quindi in un certo senso noi per mantenere questo, questo stato di cose, abbiamo bisogno di risorse che fondamentalmente non ci sono al cento per cento nei territori che comunque ci appartengono in qualche modo. Quindi dobbiamo per forza cercarle altrove. Tutto questo si traduce con delle politiche che possano apparentemente sembrare sportatrici di democrazia, ma in realtà sono politiche che costringono i popoli poveri a lavorare per noi a basso costo. Quindi l'estrazione in determinati paesi del Medio Oriente, che se venisse fatta in un paese occidentale costerebbe un totto, nei paesi del Terzo Mondo chiaramente costa meno. politiche anche di carattere industriale, cioè le multinazionali che investono nei paesi poveri tipo il Bangladesh per fare in modo di avere una mano d'opera a basso costo, creando sfruttamento. chiaramente le risposte che questi paesi possono dare, al di là di quelle che sono le espressioni diciamo tranquille, di dissenso, ma oltre quello si ribellano, possono ribellarsi e la ribellione spesso non piace all'Occidente. Quindi l'Occidente crea le condizioni, a mio avviso, sempre ripeto a mio avviso, per carità, crea le condizioni per fare in modo che in questi paesi, che questi paesi non traducano il loro dissenso in qualcosa di diverso. Quindi politiche di appoggio, a regimi, politiche di, come ho detto prima, di sfruttamento e quant'altro. Quindi si genera in tutta l'area una situazione di scontento che si traduce per forza con il terrorismo perché questi popoli non hanno altro modo per potersi, diciamo, esprimere per quanto riguarda il loro dissenso. Chiaramente si tratta anche di popoli, secondo me, che non hanno imparato purtroppo quelle filosofie che in Occidente sono sempre state alla base di tutto l'evolversi della storia, quindi sono state, diciamo, soggette esclusivamente ai dettami dell'estremismo religioso e all'interno chiaramente i gruppi, quelle, diciamo, organizzazioni che una volta erano organizzazioni che sono servite allo stesso Occidente per contrastare quello che l'Occidente non avrebbe mai voluto, dimostra il periodo quando l'Unione Sovietica cercava di scendere verso l'Afghanistan, quanto era importante che determinate organizzazioni facessero da appoggio agli Stati Uniti per fare in modo che l'Unione Sovietica non sconfinasse più di tanto. Adesso queste organizzazioni che poi sono state finanziate dall'Occidente sono sfuggite di mano e chiaramente con i loro criteri condannabili, per carità di Dio, nessuno appoggia questo tipo di risposte, ecco, chiaramente fanno gli attentati, creano gli attentati, quindi è bene capire, è bene rendersi conto che l'Europa è in guerra, quindi quando due paesi sono in guerra c'è da aspettarsi delle reazioni, spesso non convenzionali, del tipo come può essere successo a Parigi, a Nizza e in tutto il resto dell'Europa, quindi Belgio, e le reazioni non convenzionali non sono altro che le loro risposte. Chiaramente è impossibile per una tattica così povera raggiungere quelli che sono i punti nevragici del potere europeo, si scagliano contro la popolazione inerme, creando terrore, creando morti e chiaramente ferendo in qualche modo il nostro continente. Quindi la politica estera e ciò che noi stiamo facendo da anni e anni verso questi paesi, a mio avviso, è molto discutibile. E' lì che va rivista per risolvere questo problema, altrimenti andremo per forza verso un'escalation di queste cose. Quindi è impossibile che poi possano essere, diciamo, diventa impossibile che possano essere in qualche modo tenute sotto controllo perché come abbiamo visto a Nizza, chi ha operato era un cittadino francese, quindi si fa male, si fa veramente male. Quindi l'unico modo è ridiscutere, rivedere quelle che sono le nostre politiche internazionali. Solo in questo modo si può arrivare ad una pace. Grazie per l'ascolto.